Sì, diciamo che il mondo del soccorso sanitario al giorno d'oggi ha avuto un'evoluzione enorme, anche le tecniche di soccorso e quant'altro, quindi l'unica figura che al momento è scarsa, diciamo, il riconoscimento, è scarsa la tutela, è scarso anche nel rapporto nell'equipaggio del soccorso è proprio l'autista di ambulanza e come noi lo vogliamo chiamare autista soccorritore perché in tutti gli effetti la parte del soccorritore è aumentata negli anni, e quindi quello che chiediamo poi noi alla fine è di rientrare in quelle tutte categorie che hanno un percorso professionale scolastico in primis prima di intraprendere questo lavoro, di non impararlo sulla pelle della gente, parlando pari pari, ma di impararlo prima ed essere preparati nel momento in cui uno mette le mani sul volante alla guida di un'ambulanza di soccorso. Perché lei è qui in veste nazionale e questo giro di perlustazione nelle Marche? Che cosa si sta tentando di fare? Ma allora, il mio è un'occasione che ho preso al volo, in collaborazione con i colleghi del COES Marche e quindi abbiamo sensibilizzato, stiamo cercando di sensibilizzare le regioni, specialmente in questo caso la regione Marche, l'assessore alla salute della regione, nel trovare un accordo in conferenza delle regioni. Perché questo percorso è fermo in Commissione Salute, è fermo perché non si riesce a trovare proprio una linea uniforme di formazione per l'autista soccorritore. Noi quello che abbiamo sempre chiesto è una formazione base, tecnica, dell'autista soccorritore in modo che abbia un iter formativo uguale in tutta Italia. Allora, a livello regionale, quindi come COES Marche, raccoglierete questa intenzione a livello nazionale per attivare tutti gli interlocutori politici e tutti i lavori per iniziare questo percorso, per sbloccare questo percorso. Sì, sicuramente noi come forza di associazione cercheremo di coinvolgere tutte le nostre risorse per arrivare a capire dove le forze dell'assessore politica e quant'altro riescono magari a darci una mano per sbloccare questa situazione che anche noi nella nostra realtà siamo circa a livello regionale 2.000 autisti, più o meno, adesso più o meno, dettagliatamente non lo so preciso, però cerchiamo nel meglio di cercare di far capire la nostra situazione e la nostra problematica a livello regionale comunque.